ciao oggi parliamo del design radicals o radical ho avuto la grandissima fortuna di intervistare due dei protagonisti di questo stile ma o ve li linko oppure ve li cito da qualche parte all'interno del video ok e questo stile è stato estremamente importante non solo per il design italiano ma per il design mondiale quindi anche questo video si trova sia all'interno della playlist storia del design che all'interno della playlist storia del design italiano il radical design è nato in un periodo molto particolare degli anni 60 e fu la conseguenza di tante cose diverse la guerra nel vietnam il movimento studentesco prima in francia e poi in italia la strategia della tensione e tanti altri sconvolgimenti politici culturali e di costume crearono il movimento del 68 alcuni punti cardine furono l'interesse ambientalistico l'avversione al consumismo la rivendicazione da parte dei giovani di una maggiore partecipazione politica il riconoscimento delle minoranze femministe ed omosessuali etiche religiose ed il diritto allo studio e tra questi ci fu anche il movimento ipi ecco il radical design si piazza proprio in questo periodo storico ed infatti i designer e gli architetti furono i professionisti maggiormente influenzati da questo stile lo stile radical comunque non è il primo mai visto nella storia del design ci sono tanti esempi precedenti come quelli dell'hop art che hanno ricevuto moltissima risonanza mediatica tornando al periodo preso in esame non è casuale che questo stile sia assorto in città diverse dal solito povere industrialmente come ad esempio firenze roma e napoli sì perché il radical design è stato un movimento che è stato vissuto in tutto il mondo ma ha avuto una forza impressionante una risonanza mondiale in italia nel 1966 fu fondato il gruppo archi zoom da andrea branzi corretti di ganello morozzi ai quali si associarono dario e lucia bartolini nello stesso anno nacque super studio così come il gruppo ufo e molti altri gruppi di cui faremo degli approfondimenti perché questa è una linea è una linea da seguire di storia del design ma ci sono tantissimi approfondimenti che possiamo fare comunque torniamo appunto alla nostra storia fiorirono come funghi in questo periodo questi studi ovviamente tutti con una tendenza di controcultura rispetto a quello che stavano vivendo in quel periodo molti di questi studi sono aperti ancora oggi la maggior parte dei quali trasferiti a milano finora vi ho solo citato le parti storiche ma cosa c'era di concreto e come erano composti c'erano lampade colorate archi cornici laminati stampati e macchie di leopardo a capanni totemici fili in tensione superfici laccate con colori aggressivi e al contrario tenerissimi sono tutti elementi che compongono quello che viene chiamato radical design il funzionalismo non è sempre al centro della progettazione di questi oggetti ma al contrario c'è l'idea di stupire attraverso immagini molto forti con il passare del tempo questo stile di contestazione si affievoli anche perché gli operatori del settore non credevano più che questo stile potesse realmente riformare il sistema ma comunque nacquero due importanti gruppi che è fondamentale ricordare e li vediamo in maniera approfondita in un altro video e parliamo del gruppo alchimia e del gruppo memphis tutto qui se vi è piaciuto questo video lasciate un like oppure iscrivetevi al mio canale se volete continuare a seguire altri video e basta alla prossima ciao ciao